Assemblato in gran parte, nella grande maggioranza, dell'opera di materie prime abruzzesi, la ceramica o di tradizione di fattezza abruzzese, la ceramica, la pietra della maiella, il nostro ferro battuto, è un'opera che ci sarà donato dall'entremossa artigianato e artistico abruzzese di Guardia Grele, che ringrazio e che simboleggia anche con questa forma ascendente la rinascita. E' evidentemente un'opera dedicata all'Aquila, al ricordo delle vittime che ci sono state, ma con un sentimento di speranza sulla ripartenza, sulla ricostruzione, l'Aquila oggi è una città vivace, in piena attività. Crediamo di aver dato una localizzazione idonea, prestigiosa, in questo giardino che è il punto che collega gli uffici del Consiglio regionale alla sala consigliare, quindi tutti passano qui o si fermano qui. Quindi voglio ringraziare chi ci ha donato l'opera, tutti gli artisti che ci hanno lavorato e sono contento che oggi l'abbiamo inaugurata.